Ciao amici di Tariato Games, buongiorno. Venerdì 18 agosto e si riparte da questa immagina, da quel poco che abbiamo avuto modo di vedere e di sapere sui Football 2024, perché c'è un enorme elefante nella stanza, per così dire, sui Football 2024. Perché Konami dà queste pillole di informazioni, il sistema di De Nouveau in arrivo su PC e altre piccole cosette, poi ci accapigliamo sulle immagini che arrivano dalla Malasia per i menu, per i colori del gioco, eccetera, eccetera. Ma l'elefante nella stanza è enorme, è incredibile che a poco più di due settimane dall'uscita del gioco, Konami non abbia ancora fatto una presentazione organica, corposa, di Football 2024, diciamolo chiaramente. E-Sport FC sta facendo le presentazioni, gli approfondimenti, poi non ci farà vedere tanto gameplay, ma viene messo nero su bianco quelle che sono le caratteristiche. Per il Football 2024 non è così, dobbiamo andare a prendere le immaginine, allargarle, fare cose. È un modo di fare che non abbiamo mai apprezzato di Konami, è un modo di fare che si sta estremizzando nel corso degli anni. C'è poco da dire, siamo in questa situazione, andiamo a vedere appunto i piccoli dettagli, le bandiere sugli spalti, anche se da quello che è stato detto da alcuni che hanno partecipato alla presentazione, in realtà ci sono nuove dinamiche di gameplay, ci sono nuove cose. È un modo di fare che noi non apprezziamo, che secondo noi non è neppure molto producente e controproducente. Ma questo è quanto ragazzi, siccome io, siccome voi tenete a questo gioco, noi lo continuiamo a seguire per le ragioni in più svariate, ma è chiaro che, come dire, non è assolutamente apprezzabile. Tra l'altro, dobbiamo essere noi a fare dei ragionamenti interessanti. Alessio, ieri, in un commento, nel video di ieri, alla notizia di De Nouveau, ha giustamente detto ma De Nouveau sì è vero un sistema anti-cheat, ma è un sistema anti-crack, ed è vero e ha perfettamente ragione. Non è che serve anche per la Master League su PC, visto che qualcuno altrimenti ci giocherebbe magari senza pagare il DLC. Alessio ha ragione, non è detto che sia così, perché non lo possiamo sapere quello che fa Konami. Però in effetti De Nouveau sì è un sistema anti-cheat, ma è anche anti-prateria, anti-crack. Quindi questa notizia potrebbe dirci che le possibilità di vedere la Master League sono sempre maggiori. Perché ve lo ricordo, ancora una volta, Konami ha detto che la Master League arriverà in iFootball. Non è vero che non arriverà. Febbraio scorso ha messo nella roadmap Crossplay, Editor e Master League. Quindi sono le cose che dovrebbero arrivare prima. Però non è detto che arrivi al Day One di Football 2024. Non ce lo auguriamo vivamente che arrivi entro la fine dell'anno. Ma ad oggi la certezza, al 100%, non ce l'abbiamo. Quindi speriamo che questo comunque sia un indizio che la Master League arrivi in tempi brevi e che De Nouveau serva proprio appunto per un sistema sia anti-cheat che anti-crack, appunto, perché tanto la Master League, state nei certi, sarà a pagamento. 99,9999% sarà a pagamento. Salvo Konami che così in un momento di follia dice che sarà gratuita, ma ci credo poco. Sempre in ottica di microtransazioni. Se sarà gratuita però ci saranno più microtransazioni, quindi non so quanto sarebbe positivo. Comunque, detto tutto questo, ragazzi, andiamo a vedere un po' appunto questi dettagli. Prima arriva da una persona molto importante nella community di PES e di Football e che va a vedere delle cose incredibili all'interno del codice. È riuscito a trovare le animazioni della panchina che ancora non sono disponibili. Vi fa vedere, adesso vedrete le immagini, i giocatori che non sono posizionati in panchina, ma perché proprio manca la panchina, ma le animazioni funzionano e anche i giocatori seguono il movimento della palla. Ve le faccio vedere meglio, ecco, questa è la panchina lunga, 2, 4, 6, 8, 9, ma può essere ce ne sono altre. Eccoli qui, li vedete posizionati con la panchina lunga e li vedete, ecco, che seguono anche il movimento della palla. Qui si riconosce anche Benzema, mi sembra, proprio lui. Quindi ecco, ci dovrebbe essere anche questa nuova grafica, diciamo, di contorno. Ripeto, per l'esperienza del gameplay cambia niente, però ci dobbiamo accontentare appunto delle briciole che o ci dà Konami con delle pillole informative minimali o con queste cose che queste persone della community fanno e che comunque dobbiamo ringraziare perché mostrano più loro che Konami. Poi Luxo 1458, dalle immagini che stanno girando in questi giorni, dalla presentazione ufficiale, questo è sicuro, ragazzi, ufficiale, con la presentazione in Malese ci sono tante conferme, ha tirato fuori i menu della versione mobile. Questo è, si vede chiaramente, che la versione mobile di football sono immagini ingrandite, non molto definite, ma che ci mostrano appunto i nuovi colori del menu. A me sembrano molto smorte, tra l'altro. Poi magari è un problema di definizione dell'immagine. Mi piacevano più prima giallo e blu, era un pochino più vivo la grafica. Comunque, ecco, questi sono i colori. Questi dovrebbero essere i nuovi menu per quanto riguarda la versione mobile. Sapete, sono un po' differenti rispetto alle versioni PC console, ma relativamente. Poi ragazzi, sì, questa immagine, ve l'avevo già anticipato ieri con un warning, è chiaramente un fan art. C'è scritto anche My Club, non l'avevo notato. Ragazzi, ieri mattina mi ero svegliato molto presto con un mare di notifiche da Telegram, da Facebook, da Twitter. Tre persone me l'hanno mandata, ve l'ho mostrata, ma in effetti è un fan art. C'è scritto benissimo My Club. Io ve l'avevo messo subito l'arlert per dirvi che era molto probabile che non fosse un'immagine ufficiale, ma sapete, quando uno sta in semiferia, vi arrivano tre notifiche al volo, vi svegliate presto, volete dare subito tutte le notizie alla community, può sfuggire di leggere My Club. Perdonatemi, può capitare, ma è come dire, qui faccio tutta la luce del sole, se qualche volta, non è che ci si sbaglia, si manca di vedere il dettaglio, ma vi avevo messo tutto l'alert, ve l'avevo messo proprio bello, evidente. E comunque, ecco, questa non è un'immagine di Football 2024, assolutamente no, ma ve l'avevo un po' anticipato ieri. Poi ragazzi, Konami non ci mostra nulla, ma dal punto di vista del marketing, Toma Toma, quattaquatta, le sue cosine le fa sempre. Perché intanto in questi giorni, Milano e Inter, con il loro logo di football, sulle maglie e gli allenamenti, si stanno vedendo ovunque. Quella è stata una gran bella mossa, secondo me, di marketing, e oggi ci riporta, John Royer, un altro dei nostri influencer di riferimento, il messicano Alain Pulido, attaccante allo sport in Kansas City, della MLS, fa pubblicità di football sui social. Hai firmato un accordo come ambasciatore, o rientra nell'accordo tra Konami ed MLSPA, che sarebbe l'associazione di giocatori, qui c'è pure il logo. Certo, però, queste sono cose, ragazzi, che Tomi Tomi, quatti quatti, ecco come fai football a sopravvivere e a portare anche reddito. Perché la sezione di chi fa gli accordi con i giocatori, con le squadre, ha sempre trovato il modo di valorizzare al massimo queste operazioni, altrimenti non si spiega perché il football è, a differenza di quello che pensano le persone, che mescolano i propri giudizi personali sul gioco ai risultati economici, che sono due cose completamente differenti, è ancora molto remunerativo per Konami anche con questi tipi di operazioni di marketing. Quindi, chi fa le operazioni di marketing per le licenze, per le partnership, sta lavorando bene. chi invece fa la comunicazione, lascio a voi l'opinione, appunto, al 18 di agosto, non avere una presentazione corposa, vivida, su quello che sarà il football 2024, anche se, ripeto, gli annunci e le notizie che arrivano a questa presentazione da Malasia, dicono che ci sono degli elementi di gameplay da, quanto meno di gameplay da conoscere. Vabbè, comunque, andiamo oltre. Passiamo ai football hub, qui vi mostro che c'è sempre questo Diego Armando Maradona con logo Napoli, senza l'immagine, che comunque è qui presente nel database, perché sapete che i football hub si basa sul database, riescono a tirar fuori le informazioni, chissà quando arriverà in football 2023, o arriva la settimana prossima o quella dopo, o non arriva più. Nuovi giocatori all'interno del gioco, c'è anche in Dica della Roma, ho visto anche Scuffet e altri giocatori, comunque, vabbè, anche questo. L'ultimo elemento sui football 2023 è che lunedì arriverà il pool Liverpool, così, senza, dopo qualche novità nelle ultime settimane si torna al classico pool squadra, sapete che questi, i numeri sono indicativi, quello che di certo è la composizione dei giocatori, Elliot, Gomez, Zoboslai, McAllister, Gapkwo, Robertson, Diogo Iota e Allison, arriveranno lunedì e ovviamente faremo il video per mostrarvi le novità. Ragazzi, scusate se sono un po' oggi negativo, ma, come dire, di queste pillole di informazioni onestamente lasciano un po' il tempo che trovano, Konami ha tutto un microcosmo intorno a sé di influencer, di appassionati, che ne vorrebbero sapere finalmente di più, anche se fossero poche cose, anche un trailer, anche quello che c'è e anche una roadmap per dirci quando arriva la Master League, il crossplay, l'editor e invece vaghiamo ancora in queste micro notizie ufficiali, di nuovo la fine del 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 sistema del numerico degli stili di gioco che saranno presenti in e-football 2024 ma non richiederanno più quella corrispondenza, sarà inserito altro? Eh, magari saperlo o non ci sarà altro e potremo cambiare da uno stile ad un altro senza bisogno di nessun tipo di intesa tra i giocatori. Come si suol dire lo scopriremo solo vivendo. Ragazzi, per il momento io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani, salvo, salvo breaking news, che di venerdì è un po' difficile che arrivano ma non si sa mai, sono qua, come ieri sera ho realizzato subito il nuovo video sui sport FC24, ci fossero altre novità per altri giochi di calcio, siamo sempre qua. Buona giornata ragazzi, ciao!